Questa è le 10 minuti, full race highlights dell'anno scorso E quindi adesso quando inizia raga? Quando ci sarà adesso la prossima gara? Fun fact, il canale YouTube della Ferrari durante le 24 ore di Le Mans ha trasmesso in live la gara? Ah, figo Per le moto invece c'è il documentario Fino all'ultima staccata su Netflix che racconta gli anni d'oro della MotoGP Ah, fammelo segnare subito 15 giugno? Ah, d'estate Ah, fammi vedere a Netflix Buonasera Armando Com'è che si chiamava? Fino all'ultima staccata Vediamo se c'è Fino all'ultima Fino C'è Senna, Formula 1, Drive to Survive C'è quello di Schumacher che devo aggiungere assolutamente alla mia lista NASCAR Fangio Mi devo salvare Senna Salvato già Non l'ho ancora visto Bubba Wallace In gara contro ogni limite I don't know Non so cosa sia Non c'è però quello che dite voi Almeno qua Sul mio Netflix Dalle 16 del 15 giugno alle 16 del 16 Ah Ah Per Ford v Ferrari Ferrari è durato Cioè Ogni parte È durata giusto Il giusto proprio Mi è piaciuto questo Era molto bello come film Mi ha fatto anche piangere Ovviamente Ok Quindi Ah sì Questo volevo vedere Lebron James Che fa partire la gara 25.000 Eager Fan Front Rock Ferrari But their archrivali Toyota Was soon On the attack In the midfield In Hypecar Though Trouble For the action Express Cadillac On the very first lap A safety car Would be scrambled Che cazzo È vero che Circa 3 km Dura un giro No Eh Christian Bale È stato veramente bravo È stato il primo film Che ho visto con lui Non ho mai visto nulla Con lui È stato veramente bravo Sì American Psycho Anche giusto C'era lui Dovrei vedermelo Ce l'ho salvato Nell'alissa Da un bel po' Guarda come scivolano Oh cazzo Però come sono diventate Diverse Rispetto a come erano 50 anni fa raga Sembrano stra futuristiche Queste auto Ah Batman Oh sì ma Non mi ricordo un cavolo Era anni fa Ma come si distruggono La mentalità è whack Non è se si rompe qualcosa Ma quando si rompe qualcosa Bisogna essere pronti Si stacca tutto Guarda Senza limitazioni Un circuito a memoria Però È sempre lo stesso Vero raga Da anni Ah ok Jack Ci sono le varie categorie E ci sono le varie categorie E ci sono successi Gli incidenti particolari Raga Negli ultimi anni Cioè durante questa gara qua Qualcosa di grave Cioè per grave intendo Ci sono stati dei morti O sono diminuiti Grazie Cioè per fortuna Immagino che sono stra Pazzo Cioè cercano di usare Tutte le precauzioni possibili Prima di fare il cambio Raga tra un pilota e l'altro Durante sta gara Per quanto tempo Devono guidare al massimo Tipo ogni quante ore Dovrebbero fare il cambio Vero che possono farlo Anche dopo due ore Per dire Se uno non se la sente Bello che i numeri Sono illuminati così Massimo quattro ore Molto diminuiti Quasi al zero Ma non si sa mai Ah le quattro categorie Corrono contemporaneamente Ah Perché qua sembravano Fosse tutte uguali Sembrano simili Quattro categorie Wow che figo Quando si abbassa così Qui Pup Cazzarola Però 24 ore Così Sono tante Palang è vicino a casa mia Neppe Sono 15 minuti in macchina Manco lo sapevo C'è forse questa cosa Che figata Ah vedi qua Sono diverse le auto Rispetto a queste Sono un'altra categoria Però mi state dicendo Che quindi gareggiano Tutte allo stesso momento Figo Avranno la tv in macchina Dici Pensa già solo per quattro ore Continuare a fare stesso giro All'infinito Sembrano aerei con le ruote Sì capisco cosa intendi È diverso sicuro Vorrei vedere i pit stop Che fanno loro Quanto ci mettono Perché qua non è che Hanno fatto vedere tutto Vedi come cavolo è fatta Sembra stra-futuristica Dovevi vedermi il video di Nask Che figo Preppe Fammi sapere Dai Ovviamente sai di più Sai quando ci sarà sta gara qua Che me la Magari Ho la possibilità di andare A vederla dal vivo Almeno qualcosina Sarebbe figo Oddio Figo Figo Andri Sì Nask ha fatto tanti video Che ancora non abbiamo visto No abbiamo visto Il regolamento Naskar Che viene Ma quello è Leclerc Eh sì Quello è Leclerc Quindi vanno là A vedere anche loro Interessante La riconosce dappertutto La riconosce dappertutto Eh beh L'ho visto Ho detto Ma che cazzo ci fai Interessante Incredibile Solo lui Vedi Adesso però Raga Cia cazzo È inquadrato Full Full zoom La tv La tv Ma hanno Un telefonino Perché in caso di guasto Con la radio Non funzionate Il pilota può comunicare Con i meccanici Per cercare di riparare Il guasto E tornare al box Ah Sì sì 20 luglio Ah d'estate Ok Ok Interessante Se ci corro Mi aspetti su Sky Sport Non ho Sky Sport Andri Però tu Avvisami prima Vediamo di Trovare un modo Per vederti Modo anche illegale No ovviamente Non si fa ragazzi 1v1 su Brawl Adesso Stiamo imparando Quello che è successo L'anno scorso Aleman Non posso Bello Tra l'altro L'anno scorso C'è stato un incidente Spettacolare Che hanno commentato I miei collieghi Di una Porsche Che si è ribaltata In uscita dai box E ha battuto Una torretta Di fotografi C'è il link Magari Del video Così lo vediamo Lollo Se vuoi 1v1 Su Brawl Stars Ora Mi devi 5 sabre Regalo E ti faccio Una partita Guarda quanta gente Bellissimo Ok Cos'è che devo vedere? Sembra un'orgia Ma che cazzo Di orgini hai visto? Cos'è Questo Che hai detto Tu Aspetta Cosa dovrei vedere? Cosa hai detto Tu hai detto Guardati La Mercedes CLK AMG Mi pare Che prende il volo Ma dove? Ma che cazzo Di auto è? Aspetta Aspetta Guardala Poi la ripresa Oh mio dio Cioè tu immagina Cioè tu immagina Vederla dal vivo Questa Samurai Samurai Hai sentito? Porca Troia Vieni Però non te ne andare Sì sì La cerco La cerco Aspetta 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 Samurai Ti raso a zero Te lo giuro Ti strappo tutti i peli Con la pinzetta Allora Cos'è questo? Maybach Zeppelin Phantom Ferrari Aspetta CLK GTR F40 McLaren SLR Maybach Zeppelin Phantom Ferrari 16M 599997 Supercar Street Jack In Tokyo Cosa ho appena letto? Quanto è lungo Sto nome? Cosa significa? È il nome di questa macchina qua? Non si capisce Sono tante macchine Cosa sono? Aspetta Ma le vede da ferme Però il rombo che fa Quella di prima Mamma mia che paura Che bel colore Cioè È particolare Bello acceso Questo blu elettrico così Lucido Sì vabbè Ma la ripresa Cioè Vabbè Aspetta Ma Andri Ma che dici? Vico Ho bisogno del tuo permesso Posso venirte a prendere Lituone domenica Con la 911 Che me la noleggio A fare Farmi fare un giro Mandalo qua Qua Pneppe Aspetta che ti do il permesso Permit Pneppe Trattino Basso Aspetta Ho sbagliato Scrivere Vai Hai sbagliato Il VQ Alla skyline Esatto Allora Cos'è che devo vedere Avete detto Me lo manda Pneppe Giusto Eccolo Vediamo Tra anche la Porsche Dio mio Nove ore Da questo pezzo Devo vedere Dal punto che mi hai mandato Guarda i nomi Guarda i nomi Sono tutti lituani Ma che cazzo di cognomi sono Quelli lituani Vedete Vedete Finiscono sempre con le S i cognomi Avete notato As Spesso Vuoi dei cognomi Se hai un cognomi Se hai un cognome femminile Donna non sposata Femminile Sposata E maschile Sono dei tre cognomi Che vi ho appena detto Tu puoi capire Cosa sono Se è sposata la donna O se non è sposata E Dal cognome maschile Capisci che è un cognome maschile Perché finisce in ass O is Vedete Questa è una cosa lituana Anche in Italia In base a come finiscono i cognomi Capisci da che parte d'Italia Hai origini Però questa è più privata È più Sposata Non è sposata E poi è solo per le donne Ragazze Cioè Per le Per la parte femminile Della Lituania È un po' brutto Secondo me Come ti chiami? Eh mi chiamo così Il tuo cognome? Così Ah allora non sei sposata Cioè Capito L'importante è non beccare il marito Ok Vediamo Immagino sia da questo punto Giusto Pneppe? Vediamo 91 Sì Infatti abbiamo la conferma che La famosa Porsche numero 9 In realtà è la 91 E anche loro mettono Le gomme slick Senti il commento Rituano La slick Al 100% Anche se Attenzione I piloti dovranno essere bravi A scaldare le gomme Perché sicuramente col bagnato Guardali lituani Vedi lì come sono Che non è così tanto Succede subito dopo il pit stop Ok Guarda adesso Andri ma cosa vuoi fare? Ma stai buono Mentre quella della pista è 19 gradi Quindi non è altissima Il primo è Kupchikas Sicuramente Poi abbiamo Fjordback Scaldare E non sapevo ci fosse Sta cosa qua in Lituania Ecco 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 Uh brutto 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 incidente Mamma mia Ma ci Brutto Brutto incidente Mamma mia Meno male che Almeno quanto vedo Non c'era nessuno Su quella torretta Ma sembrava ci fosse Aspetta Che quell'uomo È da dove è apparso È uscito dall'albero Cioè caso Aspetta vediamo È appena uscito Esatto esatto Ecco Ecco Uh brutto botto Brutto incidente Mamma mia Era sopra il tizio Guarda Uh brutto botto Brutto incidente Mamma mia È un telo O era la persona là sopra Meno male che Sì sì vedi È sceso Non c'era nessuno Su quella torretta Cazzo come serio Poi sembrava Andasse piano I believe I can fly Insomma ragazzi Ok Interessante Ok ok Era una live Trasmessa su youtube Ok Eh Cosa Supercar Maserati MC12 Cosa fanno con quelle mani Toglile che devo vedere la macchina Però raga Esteticamente Non mi piacciono così Sembrano troppo futuristiche Saranno sì fighe tutto quanto Però anche questa Troppo A voi piacciono Guarda Che male Ai timpani Ti vuoi fare un giro Con una 911 O con una R8 R8 Sulla Porsche Ci sono già stata Il collega Che ha detto Meno male Non c'era nessuno Che si chiama Paolo È la mia spalla tecnica Per la Porsche Cap Brasil Lo prendo in giro Ancora a distanza di un anno Per quella perla E beh Effettivamente Non si no Cioè Tu stai vedendo La macchina che cade Noi abbiamo la possibilità Di girare indietro E rivedere Quelli che stanno vedendo dal vivo Letteralmente hanno visto Cioè hanno guardato la macchina A ribaltarsi Non è che ci hanno fatto caso La persona Ah l'incidente Giusto Bravi Bravi Che io mi perdo Bravi 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 Bravi